Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi come vedete siamo tornati dopo davvero, davvero tantissimo tempo qui sono Pilagy Prison di TheLegendCraft perchè ragazzi questo ritorno? Per un motivo, voglio vedere prima cosa l'impatto che ha questa serie con voi siccome ovviamente avete notato sul canale un grande declino a livello di più uso e di interesse voglio provare a riproporre questa serie perchè voglio vedere cosa ne pensate quindi ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate con un bel pollicione in su abbiamo con noi un po' di soldini e qui ragazzi ho ricevuto qualche regalino tra cui un assegno di Carro Gamer di 60 milioni che lo andiamo a riscattare tipo subitissimo eccolo qui più un assegno di 3 miliardi di Dark Arrow quindi grazie Giovanni perchè ovviamente Dark Arrow lo conosco e nel mio TS quindi grazie anche se è un regalo vecchio lo apprezzo comunque poi qui ci sono un botto di Bottle Enchanted sembra un gioco di parole infatti lo è e raga voglio sapere da voi davvero tanto se volete che porto avanti questa serie ovviamente ragazzi oggi non so bene come comportarmi, cosa fare perchè vedo molto cambiato il server, molto particolare e dovrei farmi fixare il piccone perchè vi ricordo mi hanno regalato il piccone Emerald ed è davvero una cosa stupenda chi fixa? signorini che fixa? vediamo un pochettino se c'è qualcuno magari anche onesto raga eh poi magari ho la prova video quindi potrei incastrarli facilmente attenzione incredibile vediamo un pochettino che dicono per ora nessuno si propone magari qualcuno in privato vi prego raga ma io ho nuovi coinquilini qui eh è l'amato ho nuovi coinquilini che hanno fatto una forma gigante io non me li ricordavo signor è bello vado bello vado ti inviate una richiesta di scambio raga in caso che perdo il piccone l'avete visto tutto in diretta me lo faccio rimborsare senza problemi ciccio che è vero vediamo un po' ah ma io l'ho inviata io non l'ho accettata scusi non mi ricordavo come si facesse ma poi non mi ha chiesto manco la signora raga attenzione eh voi direte Luke ma se ci casca è peccatoso e stupido ecco là raga la grande truffa guardate eh pronti pronti per la truffa in diretta e vedere il bando di gigio gamer come si chiama lui poi magari ragazzi è una persona onesta però non so se allora due sono le opzioni se mi conosce a livello di youtube non è una truffa se non mi conosce pensa che me l'abbia rubato allora raga secondo me ce l'hanno messo in quel posto attenzione perché ha detto fixo gratis prima però vediamo un po' vediamo un po' di tanto faccio salutare youtube raga così anche se lo vedi magari si spaventa ma io credo ragazzi che sia una persona onesta poi magari non è così e lo dobbiamo andare a stuprare salutate youtube nessuno dice nulla ovviamente raga perché ho visto che sono cambiati tantissimi player proprio tutti diversi l'uno dall'altro ah ghost entity ciao ghost ok di lui mi ricordo benissimo da quanto tempo però mi hanno truffato ragazzi cioè questo ragazzo qui si è fatto incastrare ed è uscito si è appena successo quello che avete visto truffa in diretta io non so e spero di si che mi givvino di nuovo il piccone raga perché sennò divento un problemone ragazzi per il prossimo video allora dobbiamo aspettare che ci givvino il piccone quindi manderò un messaggio agli admin aspetto che mi rispondano quindi credo che timo di 10 anni mancheranno purtroppo ragazzi siamo stati truffati in diretta vediamo un po' ghost entity mi fa un regolo di ritorno vediamo un po' che tigno vediamo guarda eh io guardo guardo tranquillo guardo 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 c'è anche matte 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 27 97 39 ciao matti ciao matti che cosa ma che cazzo stai facendo cosa stai facendo cosa mi regala di bello vediamo un pochettino svuota gli hopper svuota sono sono vuoti sono vuoti ma si scrive così vuoti si non so nemmeno io come si dice ok no raga comunque sono svuotati quindi non capisco il perché viva la potato bel nome originale molto carino mi piace mi piace tu sei approvato da questa legge hai ricevuto la proposta di scambio ok lo facciamo con questo trade accept ragazzi comunque fatemi sapere nei commenti se la truffa viene bannata cosa è successo ok fatemelo sapere perché raga devo inviare subito il report attenzione raga abbiamo ottenuto un nuovo piccone eberald ringrazio davvero tanto cost entity lo ringrazio davvero tanto però raga ci voleva quello con l'excavation ma comunque apprezzo davvero tanto il regalo perché già in sé costa tantissimo quindi grazie cost entity raga purtroppo però siamo stati fregati con la truffa potrei anche accontentarmi così chiudere un occhio ma no ragazzi facciamo in questo modo mi aiutate anche voi quindi magari non so in qualche modo far arrivare il video all'admin e facciamo in modo raga che mi venga restituito il piccone quindi confido su di voi detto questo ragazzi vi invito a lasciare un bel like per portare avanti la serie commentare il video con dei consigli eccetera condividere il video ma soprattutto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto detto questo ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi